musica Buonasera a tutti, sono Miki6p e sto registrando su un nuovo server Reachcraft Return della Minecraft Italia allora qui abbiamo TopoGigio Hulk, LomoGhiaccio e Fantasma le soliti regole innanzitutto ringrazio tutti di Youtube che hanno visionato i miei video continuate così cliccate su mi piace iscrivetevi al mio canale fatemi conoscere su Youtube e se avete possibilità di continuare a vedere i miei video che ultimamente stanno migliorando infatti vorrei che da 480 passasse 720 1080 per vedere anche tutte le texture wow una pirabile di oggi sono molto contento perchè ho acquistato la versione originale di Minecraft 19,95 tramite il sito del Minecraft e ho scaricato anche Technic Pack all'interno trovo Vanilla Techkit altre serie che posso fare prossima serie vi farò vedere quello che ho costruito la mia casa e la ingrandiremo wow la portata automatica bellissimo wow tutte le chest chest di zero se si può rompere ma protetto troppo bella wow data che meraviglia magari ci fosse la lava metterei tutta qua la 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 oggi come l'altro episodio andiamo a vedere un po' in giro andiamo a esplorare questo mondo adesso nei primi episodi esplorerò imparerò il crafting ma già sono abbastanza bravo da cominciare a conoscere gli oggetti e se sarà possibile un bel graphing su da qualche parte oh cacchio adesso non sapevo bello io comincerò a fare un'altra serie la technique che mi pare che è molto bella creerò macchinari per diamanti per produrre diamanti oppure macchinari agricoli per l'orto e vedremo come se gli accoglie automaticamente diamanti wow non c'ho qua fare di si mamma mia quante robe c'è tantissime robe da fare qua oh da mangiare da mangiare da mangiare da mangiare questa si eh non si prende non riesco a prenderla ah questa non si potrebbe prendere va beh allora andiamo a esplorare questo mondo spero che il volume il video sia molto bello anche per voi se mi salutano se mi salutano allora macelleria reach cost benvenuti alla macelleria di reach cost è a vostra completa disposizione buon appetito va bene ah beh perché per quelli che sono nuovi credo credo che ci sia un macchinario che dai scevo un po' gratis o tu che ti diverti a spendere tasti all'impinto divertiti oggi perché domani non lo conosciamo bravo andiamo un po' prima di là ah c'è un apporto segreto ragazzi che è tornato oh Anan 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 Farsi Forza forza Ecco Adesso Oh Mega crascione Che è successo? Così Altro Punto Un po' Si va Non si va Oh che belle costruzioni Magari si potessero rifare Ma non si può Al solito La solita protezione Oh Oh Ma che vero Tienerti La mia Amica Magari Magari Un po' Loc Così Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Che non si può Che non si può Fa niente Un po' 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 Ahah Shhh un po' la voce bassa questo è un po' la miseria mamma mia ragazzi ma questi sono matti troppo bello mamma mia e poi torniamo ok 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 come un gnocco l'unico buco di quel qui no io ce l'ho andato mannaggia aria pvt oh bello molto bello molto bello ragazzi se vi è piaciuto io lascio sulla descrizione come il sito e da micchi sei qui un saluto e e non non